Eccoci ancora insieme amici per un altro brano dedicato alla tradizione italiana. Sempre con le cose italiane che io cerco sempre di difendere, soprattutto in questo momento, i miei amplificatori stupendi di V-Mark, la mia chitarra Eco, la mia componentistica Quick Lock e ringraziando il Peak Week e la Cariplo per fare in modo che queste cose possano arrivare a casa vostra attraverso il web. Ho scelto questa volta un brano che voglio dedicare a Vincenza, la mamma di un mio caro amico che si chiama Luigi Morello, perché lei amava tantissimo questo brano e lo cantava sempre. E quindi ho voluto proprio cogliere questa occasione per dedicarle un momento, visto che ci ha lasciati proprio in questo periodo. Spero come sempre che la cosa vi diverta e soprattutto che sia stimolante e interessante ascoltare ciò che vi propongo. Grazie tantissimo, vi voglio bene e ci vediamo presto. Ciao! Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti! Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!